colazione, brunch, aperitivo, cena, disco per un momento elegante, fashion, unico e indimenticabile della tua giornata Deep Blue Caffè Sweet Garden oltre i 500 metri di locale in una delle più prestigiose location del centro Italia Porto Recanati, Piazza del Borgo, a 100 metri dal mare music, eventi, meeting aziendali, feste di lauree e live ogni giorno Info 071 990 41 16 Seguici su Facebook Deep Blue Caffè